Che intendi con quel genere? Beh, non indossi anelli. E quanti anni hai? Una trentina? Tra i fine venti... inizio... trenta. Lasciami indovinare. Hai un'auto in leasing che non potrai mai comprare, non piangi al cinema e vuoi solo pollastrelle sexy. Ma ci conosciamo? No. Sono perfetti l'uno per l'altra. Perché non ti piacciono i matrimoni? È una stupida favola sposare l'uomo dei tuoi sogni e vivere per sempre felice in una casa di marzapane con le finestre di zucchero. Appetitosa. Insomma, non esiste l'anima gemella. Allora ti dai da fare con tutti. Spiacente, non sono il tuo tipo. Non ho un mio tipo. Perché credi che lo abbia? Hai mai sentito? Dimmi che indossi e ti dirò chi sei. Perché? Perché ti sei visto? Che cosa? Sei stato invitato a un matrimonio elegante, ma non potevi permetterti uno smoking. Così hai deciso per un abito scuro. Ma non avevi un abito scuro, avevi solo questa giacchetta che a giudicare dai risvolti. Quanti anni avrà? Dieci, no? Potevi comprartene uno, ma questo non l'hai portato neanche in tintoria. Quindi penso che tu sia una di quelle persone un po' tirate. Finché mi sta perché comprarne un altro, dico bene? Wow. Questo spiegherebbe anche i jeans e la macchia sulla camicia. Permetti? Ma che... Ecco, lo sapevo. Alla clip. E scommetto che non porti le mutande e non sopporti che i tuoi ragazzi stiano appiccicati. Vuoi vedere? Sì dai, mostrati nudo a tutti. Tu non mi conosci, ok? Puoi farmi un favore, ti metti al mio posto? Non credo che lei attacchi anche le donne. Prego, birra per favore. Come è finita la partita? Non lo so signore. Grazie. Non so come ringraziarti, lo apprezzo molto davvero. Figurati stima. Tanti auguri amico. Grazie Vince. Il tuo a campo. Me lo presti? Non lo so, e se poi chiami un numero erotico? Non lo farò. Tieni. Ciao, sono Vince. C'è lo scimmione lì. Oh, come mi è andata? Cavolo, anche oggi. Sì, lo so che lo scimmione è arrabbiato. Grazie. Allora, quanto gli devi? Di che parli, non capisco. Sei trasparente come un vetro appena lavato. O hai un grosso debito, o devi fare l'antirabbica a uno scimmione. Non è uno scimmione. Lui è lo scimmione. E quanti soldi vuole lo scimmione? Abbastanza. Auguri. Grazie. Quanto riusciranno a mettersi in tasca? Hai fatto un'occhiata alla lista. C'è uno scaldasciugamani da 600 dollari. E poi dicono che scommettere sia buttare via i soldi. Quando sono andata a comprare il regalo erano già quasi tutti finiti. E non sai quanti ne ha ricevuti lei la sera prima. Se penso a tutti i regali di matrimonio che ho fatto, avrò speso almeno 20.000 dollari. Sì, sì, almeno. In teoria, è come avere un libretto di risparmio. Un giorno ci rientreranno quei soldi quando ci sposeremo noi. Noi? Come se io volessi sposare uno come te. Davvero? Speravo che saremmo invecchiati insieme. A parte l'ernia e i dolori alla schiena, credo che sia andata molto bene. Ti devo un favore traslocare una scocciatura. Sei ancora preoccupata? Non posso commettere errori. Ho usato tutti i miei risparmi per l'anticipo. Che faccio se mi licenziano? Di, sono stata un'incosciente. No, senti. In fondo sono sei anni che risparmi per avere un posto tutto tuo. Andrà bene. Basta che non compri cibo e benzina. Ah, non accendere la luce. Sì, mi chiuderò in casa al buio senza mangiare. Sai, mi mancherà questo posto. Sette anni, tre fidanzati, quattro diete rapide. Ah, quella dieta a base di cavolo e pepe di Cayenne mi ha quasi ucciso. Vado a fare un ultimo giro. Ok, io vado in bagno. È fantastico che tu ti trasferisca nel palazzo di Katnay e Steve. Sì, me l'hanno trovato loro l'appartamento. Volevo dire che almeno ci aiuteranno a scaricare. Non ci sperare, David. Sono ancora in luna di miele. Ti aspetto fuori. Ok. Jennifer. Va bene, lo rimetto a posto. Posso mostrarti una cosa? Che è successo, David? C'è la remota possibilità che io abbia lasciato le chiavi inserite. Non sei più il mio fidanzato gay. È finita. Oh. Oh. Fa che ci sia la caffettiera, la caffettiera. Lo scimmione ti manda i suoi saluti. Ma guarda che gentili. Avete deciso di passare. Bastava una telefonata, ragazzi. Dacci un taglio. Hai qualcosa per lui? Ditegli che mi serve più tempo. Su, ragazzi. Dai, non fate così. Nella vita si può scegliere. Infatti possiamo scegliere se lasciarti qui sul pavimento o là fuori sulle rotaie. Anzi, scegli tu, dai. Tra queste due cose? Ok. Che brutta tosse, Vince. Dovresti farti visitare. Senti, torniamo la settimana prossima. O ci fai trovare i soldi o... Lasciami indolinare. O lo scimmione esce dalla gabbia. Stavo per dire ti spezzo le ossa. Ma questa è più carina, lo sai? Sei più spiritoso di quello che sembri. E voi seguite solo un cliché. Non è vero. Sì che è vero. Non è vero. Andiamo. Auguri, signorina. Mi scusi? Non ho potuto fare a meno di notare la sua lista. Le do un consiglio. Ormai è tutto computerizzato, quindi scelga quello che vuole, punti la pistola sul codice a barre e prema il grilletto. È molto divertente. È vero. È divertente. Ecco lei. Hai risaputo. Sposarsi conviene sempre. Ciao, sono Cartney. Lasciate il mio messaggio. Ciao, sono Jennifer. Spero che tu e Steve vi stiate divertendo in luna di miele. C'era un ragazzo al matrimonio. Credo che si chiami Vince. L'abbiamo parlato un po'. Ecco, vorrei informarlo di una cosa. Se tu potessi farmi avere il suo numero sarebbe grandioso. Grazie. Oh, è l'uomo scimione. Salve, c'è uno scimione lì. Io sono lo scimione. Come? Hai sentito? Lo scimione? Che cambia, come per maloso. Non scherzare con me. Oh, scusi. Chi sei? Senta, un tale di nome Vince l'ha chiamata l'altro giorno dal mio telefono e avrei bisogno di parlare con lui, ma non ha il suo numero. Sì, te lo do. Oh, grazie, com'è gentile. Oltre che per maloso. Non scherzare con me, te l'ho già detto. Ok, scusi, non lo farò più. Devo ammettere che la tua chiamata mi ha sorpreso. Non credevo di piacerti. Non mi piaci. Anche tu non mi piaci. Perfetto. Mangiamo? Beh, probabilmente l'assicurazione ti risarcirà. Il furgone è coperto. Quello che c'era dentro purtroppo no. Che peccato. Una domanda. Che centro io con tutta questa storia? Hai detto una cosa al matrimonio. che tutti i soldi spesi in regali sono come un libretto di risparmio. Ho bisogno di prelevare da quel libretto. Non voglio più dormire su dei cuscini da divano. E così ho pensato che forse... Ci sto. Ma non ti ho ancora detto... Non importa, ci sto. È un piano perfetto. Mettiamo su un matrimonio finto. Invitiamo un sacco di persone. Tu fai una lista di tutte le cose che ti piacciono. E io mi tengo i contanti. È perfetto, ci sto. Quanto dobbiamo restare sposati per tenere tutto? Quindi è una buona idea. Oh, meglio ancora. I regali ce li facciamo rimborsare. Giochiamo il manloppo ai cavalli, triplichiamo i soldi e arrediamo casa tua come una reggia. Il conto, per favore. No, non funzionerà. Niente matrimonio. Lo ho di proprio il matrimonio. Ti nervosisce organizzarne persino uno finto. Pronto? Scherza. Dove? Arrivo subito, mi aspetti. Stammi bene? Che ti prende? Dove vai? Che ne è dei miei soldi? Dei tuoi mobili? Del nostro amore? Fa che sia la caffettiera, fa che sia la caffettiera. Tu preferisci un DJ o la musica dal vivo? Oh, ecco qua. Bene. Gli invitati hanno l'obbligo di mandare un regalo, sia che partecipino al matrimonio o no. Veramente? Questo, questo è meraviglioso. Invitiamo tutti quelli che conosciamo. Anzi, anche quelli che non conosciamo. Specialmente i ricconi. Sai una cosa? Una volta ho versato del caffè su Donald Trump, mandiamo qualche invito alla Trump Tower. Vediamo che succede. Brillante. Grazie. Tanto per essere chiari, annunciamo il fidanzamento, spediamo gli inviti per il matrimonio e poi mandiamo a Monte il fidanzamento. Io tengo i regali per il mio appartamento e tu i contanti per il tuo debito. È perfetto. E poi le donne adorano l'uomo mollato prima delle nozze e farà ma gara per consolarmi. E io darò loro un bel premio. Wow, spero che la gente crederà al mio improvviso abbassamento di livello. Ah, che dice sul fatto di mandarlo a Monte? Per quanto dovremmo tenere in piedi questa farsa? Non ho molto tempo per pagare. Oh no, se la coppia è nulla il fidanzamento prima del matrimonio, i regali devono essere immediatamente restituiti. No, no, aspetta, che significa che dobbiamo sposarci sul serio? Sembra di sì, purtroppo. Come facciamo? Non si può, siamo al verde. Sì che si può. Facciamo finta di organizzare il matrimonio, poi entriamo nel panico per i dettagli e fuggiamo perché vogliamo una cerimonia intima. È perfetto. Avremo i regali senza doverci sposare. Forse funzionerà. Togli il forse, dobbiamo solo convincere tutti che siamo innamorati. Oddio. Lo sai che ti dico? Possiamo farcela. Dobbiamo solo inventarci una storia sul nostro colpo di fulmine. Una tipo che sei svenuta per il mio sguardo affascinante e focoso. O una più credibile. Quale? Quella del tuo spumeggiante charme? No. Per esempio che ci siamo innamorati perché abbiamo qualcosa in comune. E che cosa abbiamo in comune? Qualche idea? Neanche una. Ok. Mi sa che abbiamo finito. Lo sai, Ciucco? Quel tipo è un maiale. Lo so, Ciucco. È la prima volta che sbaliggio una casa e la lascio più in ordine di come l'ho trovata. Che cosa abbiamo preso? Non molto. Un vasetto pieno di penni, una pila di vecchie riviste porno. Dobbiamo aspettarlo qui, allora. Che cos'è? Un dizionario. Che aveva detto che seguiamo. Mi pare un cliché. Sì, cliché, sì. No, non l'ho trovato. Senti, io so solo che gli conviene tornare presto. Perché se mi fa perdere Desperate Housewives, io gli faccio perdere un dito. Che fine avrà fatto? Chi è? Cara, sono tornato. Hai lasciato qui qualcosa, tipo la tua vanità? Mi fai entrare? No, sono in pigiama, no. Com'è eccitante. Se non mi fai entrare, niente matrimonio. No, no. No, 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 no. Non era nei patti, non puoi restare qui. Ricordi lo scimmione? Chi può dimenticarlo? Beh, a casa mia ci sono due suoi scagnozzi che mi aspettano e sono arrabbiati. Vuoi diventare vedova prima di prenderti i regali? Hai mai sentito parlare degli amici? Sono molto utili in situazioni simili. Ne ho parecchi di amici, moltissimi. Ma devo soldi a tutti loro. Oh, che vita fantastica la tua. Sarà solo per una notte, non ti darò fastidio. Va bene, una notte. Che ci fai con i guanti, Minnie? Tengo le mani idratate. Ah, brava. È una buona idea alla tua età. Tesoro, dove vai? A trovare Jennifer, lo sai? Mi ha chiesto di Vinso, vuole il suo numero. Sono le otto di mattina. Siamo stati alle Fiji per due settimane. Stare morendo dalla voglia di vederlo, amore. Non è il momento di essere egoisti, dai. Eh, tu non prendi niente? Oh, sono stata così insensibile. Come ho fatto a non pensarci? Il regalo per l'inaugurazione della sua casa. Grazie di avermelo ricordato. Jennifer. Jennifer, suonano alla p***a. Jennifer! Jennifer! Buongiorno. 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 Vince, ti vedo benissimo. Fammi entrare. Ciao, siete tornati dalla luna di Niere, eh? Sì, in questo momento. E tu sei... qui? Sì, sì. Allora, hai qualche... qualche novità? Sono sposata. Tu hai qualche novità? Oh, non molte. Ieri, quando mi sono svegliato, mi faceva male lo stomaco. Vince! Io voglio sapere di Jennifer. Non ha problemi di stomaco. Basta scherzare. Andate d'accordo voi due, vero? Sì, sì, andiamo molto, molto d'accordo. Lei è fantastica. Noi ci siamo accorti che abbiamo qualcosa in comune. Lo sapevo, sì! Jennifer! Eh, non c'è? No. È... è uscita. Oh, è andata al lavoro? Sì. Sì, al lavoro. Ecco dove è andata. È lì che lavora. Al lavoro, al suo lavoro. Beh, tu lo sai. È al lavoro. Quella scatola sembra pesante. Dalla pure a me. Credevo che ormai le avesse portata tutta la sua roba. Lo so, lo so. È una storia molto lunga e sono sicuro che vuole raccontartela lei stessa. Cavolo! Ti... ti chiedo scusa, devo rispondere. Faccio subito, subito. Ciao, Scimione. Ciao, Inizio. Scimione? Oh, divertente! Nessuno aveva mai chiamato così già. No, 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 non è lei. È... è la mia mamma. La chiamo Scimione per la sua... Faccio. È una cosa privata. Mi dai un momento, per favore? Sì, sì. Grazie. Grazie. Eccomi, scusami. Sì, no, è che non sono solo qui. Posso passare da te per parlarti a voce del piano che ho in mente? Sono stanco di tre piani. Hai un piano? Sì, sì. Mi sono fidanzato. Mi prendi G? No, no, è questo il piano. Sto per sposarmi. Grazie, Vince. Io... devo andare. A più tardi, eh? Vedrai che questo funzionerà. Scusami, quello bianco va nella raccolta differenziata. Facciamo una passeggiata. Muoviti. Passeggiata un corno! Stai per sposarti, correre è un buon esercizio e almeno avrai la faccia magra per le foto. Con me ha fatto Miracoli. Ah, sei in gran forma. Ti ringrazio, Vince. Ok, aspetta. Un momento. Dove dobbiamo andare? Lo simione vuole vederti. E non poteva mandare un'auto. È un ambientalista ora. Come si fa lo spelling di cliché? Scusa? Hai le orecchie in cerumate? Come si fa lo spelling di cliché? C-L-I-C-H-E. Trovalo. Questo è... è il mio dizionario. Sei proprio un tonto. No, ti sbagli. L'ho comprato a un mercatino. A Vince, in occasione del suo diploma di maturità, sono fiera di te. Ti voglio bene, mamma. Coincidenza. Diciamo che è un interesse sul prestito. Trova cliché. Trovato. Clicé. Comportamento stereotipato privo di... Originalità. Dicesi di persona o cosa prevedibile. Mi credi prevedibile? Esatto. E che faccio adesso? Mi dai un pugno in faccia. Sbagliato. Ti do un pugno sulla spalla. No! Vince! Ora devi metterci un po' di ghiaccio, eh? E te sono un idiota, vero? Un povero scimmione tontolone che creda il tuo stupido piano. Senti, troverò quei soldi, ok? Ti conosco da un bel po'. Quanti anni sono? Cinque? Sì. E posso dire che non sembri il classico tipo da ragazza fissa. Butti via più femmine che soldi, amico mio. Questo matrimonio funzionerà, è una cosa di essere. Quindi scusami, se no mi bevo questa... Va bene? Questo vuol dire che o stai mentendo alla tua ragazza... ...o stai mentendo a me. ...o stai mentendo a entrambi. Jennifer, che ci fai qui? Non avevi chiuso con tutto questo? Con che cosa? Gioco, scommesse. Mi avevi detto che ne saresti uscito. Ed ecco di qua tenuto sottotiro da questi... Mi scusi, sono Jennifer, non ci hanno presentati. Io mi chiamo... Sono Innocenzo. Innocenzo? Ma vuoi chiamarmi Simeone? Oh, signor Simeone, abbiamo parlato al telefono. Ricorda, lei mi ha dato il numero di Vince. Certo. Al telefono ho proprio una bella voce. Grazie. Come possiamo cominciare una vita insieme se non posso fidarmi di te? Quanto le deve, scusi? 15.000 dollari, più gli interessi. Cioè, di quanto parliamo? 8% alla settimana, al mese? Beh, non saprei. Quello è il mio contabile che gestisce... In realtà non importa. Importa solo che io sia qui, Vince. Nonostante il tuo debito e il tuo passato da donnaiolo, io sono qui per aiutarti. Ok, ma dobbiamo essere onesti l'uno con l'altra. Niente più, niente più segreti. È molto convincente. Eh sì, ascoltala, Vince. Ti dà un bel appoggio. Ok. È tutto quello che hai da dire? No, niente più segreti. Io, io non ti mentirò mai più. Vorrei tanto regalarti la luna di miele in Italia. Beh, non fa niente. E trascorreremo la luna di miele a casa nostra. Neanche Roma regge il confronto con le nostre coccole. Io adoro quelle mattutine. Io adoro quelle notturne. Bene, signor Scimione. Innocenzo. Riparleremo del debito di Vince dopo il matrimonio. Ora lo porto via, lo aspetta all'incontro con i miei genitori stasera. Se vuoi ti sparo adesso, amico. Ehi, è già abbastanza nervoso. Oh, 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 oh. Non ho ancora finito. Aspetto con ansia l'invito al matrimonio. Per me e per i ragazzi. Veramente pensavamo di sposarci da soli. Sì, carne o pesce? Carne. Pesce per me. Voglio mantenere la mia splendida linea. Oh, avete un mese per saldare, eh? Un mese? Ah, non credo che si possa fare così presto. A volte solo per fissare il locale bisogna prenotare un anno prima. Sono un sentimentale. Ma non sono uno stupido. Un mese. E date le circostanze, Vince. La clausola della dolcezza dovrò applicarla. Clausola della dolcezza? No, niente di che. Il tuo promesso sposo la conosce. Su, Vince. Bacia questa deliziosa signora. Ammettilo. Dopotutto ti ha salvato la vita. Ah, è che a noi non piace... A noi non piace ostentare i sentimenti. No. È orrendo. È proprio di cattivo gusto. Dovrei baciarla di fronte a un sacco di gente prima o poi. È meglio che cominci a fare pratica. Avanti. È la tua fidanzata, non è la tua cucina. Dale un bacio vero. Sì, è così che si fa. Va molto meglio. Mi sei trovato una brava ragazza, Vince. Non so come, ma l'hai trovata. Sarebbe un peccato se diventasse vedova prima di sposarsi. Non ho detto due mesi. Ho detto un mese. Ah, dimenticavo. Buona partita con i suoi. Ci hanno dato da parte mia. Sì, Lucezza, sempre più buono. Scimione. Che ti è preso? Un mese. Penseranno che io sia incinta. Dei gangster potrebbero ucciderci e ti preoccupi di questo. Guarda che io tengo molto alla mia reputazione. Credimi, nessuno ti definirebbe mai leggera. È con questo che vorresti dire. Pensiamo a cose più importanti, tipo a come pagare il matrimonio. Non spetterebbe ai genitori della sposa? Non se ne parla. Non chiederemo ai miei genitori di pagare il nostro matrimonio finto. Facciamoci venire in mente qualcos'altro. Già sono sconvolti perché mi sono fidanzata. Come lo hanno scoperto? Courtney lo ha detto a Lisa, che lo ha detto a sua madre, che lo ha detto alla sua podologa, che lo ha detto a mia zia Dolly, che lo ha detto a mia madre. I tuoi l'hanno presa male, eh? Le parole di mia madre sono state I miracoli accadono a volte. Come ti conoscono. Senti, non è facile andare d'accordo con i miei genitori, quindi cerca di non dire cose che possano innervosirli o che li rendano sospettosi. Lascia parlare a me, d'accordo? Meno ti conoscono, meglio è. Capisco. Questo non ha nulla a che vedere con loro. Riguarda a me. Credi che non piacerò ai tuoi, vero? No, ne ho la certezza, mi diranno che sono matta. Ma io sono un bravo ragazzo. Oh, piantala, tu sei soltanto un bambinone di 30 anni che non ha amici, non ha un conto in banca e non ha ambizioni. I miei genitori saranno così fieri. Lo saranno, sì. Ricorda, non parlare. Tu sei il mio fidanzato, muto. Mamma! Ciao, eccoti qua! Oh mio Dio, non riesco a crederci. Ah, ma quale mano, abbracciali! Wow, è bello conoscerci, ho sentito così tanto parlare di te e non vedevo l'ora. Piccola, fammi vedere l'anello, dov'è? Eh, dov'è? Eh, ecco, mamma, non c'è l'anello. Sono uno a scherzare. Davanti, dov'è l'anello? No, davvero, mamma, non c'è l'anello. Jennifer e io abbiamo parlato e abbiamo deciso che aspetteremo di poterci permettere il tipo di anello che lei merita. Uno nobile come il suo spirito, che secondo me ha preso da sua madre. Basta così. Oh, papà! Ciao! Però è pieno di entusiasmo! Sì, dolce, c'è il vestito che ti ho regalato io. Sì, è quello, sì. Ah, che strano. È solo che sembrava diverso sulla stampella. È la dimostrazione che le cose bisogna sempre provarle. È il matrimonio di Bonnie, la sorella di Jennifer. Lui è suo marito, Will. E loro sono i nostri nipotini, Jonathan e Samantha. Sono adorabili. Prenderei quelle foto e le riempirei di baci. Oh, forse presto avremo degli altri nipotini. Tesoro, non dovresti bere. Mamma, non sono incinta, come devo dirtelo? Beh, è pazzesco, ma non sapevo che Jennifer avesse una sorella. Oh, aspetta di conoscerla, l'adorerai, l'adorano tutti. È stata eletta la più popolare della Lawson County High School. Oh, devo avere delle foto da qualche parte. Oh, caro, sicuramente Vince preferisce vedere le foto di Jennifer del liceo. Quelle sono in soffitta. Sì, è vero. Eccone una della mia laurea a Harvard. Una giornata che ci ha resi tutti fieri. Non le trovo. Dai, figliolo, mangiamo. Hai fame? Sì, sì. Il viaggio è stato lungo. Senti che profumi. Eh sì. Sapete perché i pesci hanno le spine? Perché nel mare c'è la corrente. Vi ringrazio di avermi invitato qui stasera. Oh, è un piacere. E la vostra casa è a dir poco adorabile. Sì. Io credo di non averne mai vista una così bella in tutta la mia vita. Grazie. Ve l'ha redata qualcuno? No, no. Sì, avete pagato qualcuno. Sembra uscita da una rivista. Un'ottima cosa. Grazie. Confermo, una cena fantastica, davvero. Sì, è brava. Sei fenomenale. Vince, che fai nella vita? È una bella domanda, papà. Che fai nella vita, Vince? Tu non lo sai? Sì, sì, solo che adoro sentire come lo spiega. Sono un consulente di investimenti. Valuto ogni rischio e ogni variante possibile e cerco di massimizzare il guadagno. Beh, io ho un piccolo fondo da investire. Potresti darmi qualche consiglio, Vinny? Io sono pieno di idee. Quanto hai? Parlaci della tua famiglia. Perché non la invitiamo qui una sera? Ancora meglio, invitate tutti noi nella vostra nuova casa o moriamo dalla voglia di vederla. Io non ho una famiglia. Ah, mi dispiace molto. Sono cresciuto con una famiglia affidataria. Oh, Vince, perché non ce l'hai detto? A lui non piace parlarne, lo fa stare male. Ah, dai, non importa, tesoro. La mia famiglia è questa adesso. C'erano altri quattro bambini che vivevano lì. C'erano Joe, Natalie, Blair e la piccola Dolce Tutti. Abbiamo vissuto l'adolescenza fra le tenere braccia della signora Garrett. Noi la chiamavamo signora G. Sapete, lei ci ha insegnato a prendere il bene, a prendere il male e a prenderli entrambi. La vita è questa. Wow, sembra una favola. Sì, una donna saggia, davvero. Non vedo l'ora di conoscerla. Vive da queste parti? Chi? Oh, mia madre. Sì. Sì? No, la sua casa è lontanissima, precisamente fuori città. Chiedile quando le fa comodo incontrarci, per favore. Oh, mamma, non l'ho ancora conosciuta nemmeno io. Dai, chi si sposa senza conoscere Gianni tuoi? A quanto pare noi. Sentite, quando incontrerete mia madre, la signora G, non ditele questa cosa dell'affidamento. Lei è così sensibile riguardo a questo perché le piace considerarmi come un figlio vero. Oh, è una cosa così adorabile. Labbra sigillate. Grazie. Dolcezza, puoi aiutarmi con il dessert? Certo, mamma. A tra poco, amore. Sai, papà, è davvero bello poter conoscere le origini di Jennifer. Sì, è incinta. Dimmi la verità. No, non lo è. Accidenti. Perché non sente il suo orologio biologico? Tutte le donne lo sentono. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Forse è più... Boom, boom. Dai, batti il singolo. Oh, l'hai capito, eh? Lo sai, sembri proprio un ragazzo per bene. Devo dire che non vedevo Jennifer così felice da molto tempo. Davvero? Ti sembra felice? Sì, erano anni che non la vedevo così felice. Wow. Caro, vieni un momento in cucina. Le presine sono nel solito cassetto. Sono le prime cose che spariscono, dopo il sesso, ovviamente. Non riesco a trovarle. Arrivo. Mi raccomando, piccioncini, tenete le mani a posto, eh? Ok, papà. Ma questo è un vizio, allora. Grazie a te dobbiamo invitare i nostri genitori nel mio appartamento vuoto per farli conoscere. E se tua madre si presenta con tuo padre... Ma non c'è pericolo, perché mio padre ci ha abbandonati quando ero piccolo. Fammi indovinare. Giorno per giorno tua sorella era Valerie Bertinelli? No, mio padre mi ha abbandonato, è la verità. Quando ero un adolescente ha provato a recuperare il rapporto con me. Però non è andata e così noi non ci siamo più visti da allora. Jennifer, pagheremo noi le spese del matrimonio. Oh, no, 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 ho detto che ci eravamo pensato... Cara, cara, beh, lascia che tua madre finisca di parlare. No, 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 è fuori questione. Ma dai, amore mio, cerca di essere ragionevole. Una madre aspetta di diritto a fare questo per sua figlia. Ti prego, non negarmi, questa... Gioia! No, scusate, ma non possiamo accettare i vostri soldi. Non possiamo? Io penso che possiamo, anzi, penso che dobbiamo. Come si può negare a tua madre e a tuo padre questa gioia? Va bene. L'unica cosa è che il tuo fondo per il matrimonio lo abbiamo speso noi. Che cosa? Abbiamo abbellito il giardino sul retro, non è fantastico? Voi avete speso il mio fondo per il matrimonio. Pensavamo ti sarebbe servito un po' di tempo. Non preoccuparti, sposteremo un po' di soldi sul tuo fondo, così potremo organizzare il matrimonio dei vostri sogni. Sarà il nostro regalo per voi. Allora, grazie. E di che? Figurati. Prendiamo il desserno. Non ce la bus. Ti piace. Lo sai che la dura. Non ce la faccio, Vince. Pensa troppo? No, mi riferivo ai miei genitori. Non possiamo fargli pagare il matrimonio. Dare è una gioia, vuoi ferire i loro sentimenti. Per favore, hanno ferito i miei per anni e anni. Chiamala vendetta. Senti, non mi va che paghino il mio matrimonio finto. Non hanno pagato quello di Bonnie? Sì, è ovvio. È stato bello? È stato bello, sì, per chi ama quel genere di cose. Abiti firmati, carrozze trainate dai cavalli, colombe in volo mentre si baciavano. Mia madre ancora piange quando ne parla. Ha visto? Vogliono condividere con te gli stessi momenti. Ci stai fare. Dico solo di lasciare che paghino il matrimonio. Poi, quando e se incontrerai mister giusto, se maiuscolo, ti sposerai con lui. I soldi li restituiremo. È per quelli che ci sposiamo. Ricordi, siamo al verde, io ho lo scimione che mi tampinetto, una casa vuota. Li restituiremo a costo di metterci dieci anni, cinquanta e cinquanta, che hai detto prima? Dare è una gioia. Io non mi impegno per dieci anni. Se non ti sta bene, trovati un'altra fidanzata finta. Mi sta bene, faremo come vuoi. Giuralo. Lo giuro. Ah, va bene. Uh, comincia Sport Center! Sai, non vedo l'ora che arrivi il nostro divorzio. Avanti. Ciao. Sei ancora sveglio? Sì, non riuscivo a dormire e mi sono fatto uno spuntino. Ho pensato che lo volesse anche la mia socia. Che cos'è? Un tiramisù? Sì. Mia madre ha un'ottima cuoca. Mi ha insegnato molte cose. Beh, buonanotte. Grazie. Fox Rancia colpisce il tabellone. La palla rimane? Sì! Gene, complimenti per l'allenamento. Hai fatto proprio un bel lavoro. Grazie, ho voluto ricreare l'atmosfera da spogliatoio puzzolente. Ci sei riuscita? Non preoccuparti, andremo a fare la lista da non solo soffà. Tutta questa roba andrà via. Allora, di che parlano queste belle signore? Sono di qualche piccolo progetto. Però, che cos'è questa cifra scritta qui sotto? Quello è il prezzo a testa. È il prezzo di una vera testa umana? Perché altrimenti è davvero troppo caro. I matrimoni costano tanto, Vince. Ma non preoccuparti, pensiamo tutto a lei. Tesoro, ricordi il nostro motto? Più cibo, meno posti a sedere. Date letta, Vince. Ha ragione. Amore, stiamo organizzando un matrimonio, non un picnic. Non sapete che colpo di fortuna? Il country club ha avuto una cancellazione per il 25 aprile. Notico, ci pensate? A meno di un mese prima del matrimonio. Ah, beh. Povera donna. Comunque, il cuore infranto di una ragazza può diventare una giornata speciale per un'altra. Avrete il primo incontro del corso prematrimoniale con il reverendo Jim martedì sera. Qual è il corso? Dovete solo andare lì e parlare con il reverendo del vostro rapporto e delle speranze e paure che avete riguardo al matrimonio. Un mucchio di sdolcinate e insensate smancerie se volete la mia opinione. Di che cosa parleremo? Mamma, ti avevo detto che Vince non è tanto religioso. Il reverendo Jim non potrebbe fare una piccola eccezione. Non vi sposerà se non seguirete il corso prematrimoniale. Basta dire, sì, cara. Le due parole più importanti per un matrimonio di successo. Sì, cara. Piccola, hai pensato al colore dell'abito? Io avrei pensato al verde acqua. Anche perché è uno dei pochi colori che non ti sbatte. Eccolo qua. Andiamo. Ciao, mamma. Guardati, su, abbracciami. Non si può far a meno di abbracciarti. Scusami, volevo arrivare prima, ma mi sono persa. Mi perdo sempre quando c'è la luna piena. Dai, tesoro, presentami. Ciao. Allora, lei è mia madre, Catherine. Mamma, i genitori di Jennifer. Lei è Val. Oh, ma che piacere conoscerti. Oh, hai un meraviglioso profumo. Sembra zafferano. Grazie. E lui è Al. Possiamo chiamarti, signora G? Veramente, è meglio non... Oh, potete chiamarmi come volete, certo. E tu devi essere Jennifer. Chissà quante volte te lo hanno detto, ma io te lo dico lo stesso. Hai una bellissima aura. No, questa è la prima volta. Credi, mi dico sul serio. È porpora e arancione, con dei ghirigori magenta. Sento anche che sei un amante passionale irrefrenabile. Ottimo lavoro, figliolo. Fatemi vedere come state bene insieme. Click. Click. Adesso ascoltatemi. Ho un annuncio da fare. Sono sicura che Vince vi ha raccontato qualcosa della nostra famiglia. Oh, certamente! Spero che un giorno potremo conoscere anche tutti. Tutti chi? Mamma, tu e io dovremmo parlare in privato. Perché? Ora queste persone fanno parte della famiglia. Come sapete, il padre di Vince ci ha abbandonati per inseguire il suo sogno egoista di libertà. Tutti hanno una meta. Fortunatamente mio figlio è un ariete con Saturno di nascita, quindi ha tenuto duro. Beh, un paio di giorni fa, inaspettatamente, ha telefonato suo padre. A quanto pare, rimpiange alcune sue decisioni passate. E quando gli ho detto del matrimonio di Vince, lui si è offerto di pagarne la metà. È una cosa fantastica. No, non possiamo accettare. Non possiamo? Io penso che possiamo, anzi penso che dobbiamo. Come si può negare a tuo padre questa gioia? Non li voglio i suoi soldi. Visto? Ecco l'argomento di cui parlare con il reverendo Jim. Chi è Tutti? Ok, beh, non è andata poi così male. Posso dire solo un'ultima cosa? Certo, esprimiti pure. Lui si rifiuta di vedere suo padre. È chiaro che soffre della sindrome d'abbandono, ma credo che invece di evitarli dovrebbe affrontarli i problemi. Lo aiuterebbe nella sua crescita personale. Lei cerca ancora il consenso dei suoi genitori per ogni cosa, quindi vorrei che non parlasse della mia crescita. Secondo te perché Jennifer è preoccupata del tuo rapporto con tuo padre? Vuole che lui paghi la metà del matrimonio. No, 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 no. Jennifer ha paura che tu possa trasferire questi sentimenti nel tuo ruolo di padre dei vostri figli. Dico bene, Jennifer. No, voglio che suo padre paghi la metà. Ah, è così. Che avevo detto? Lei vuole solo quello. Non serve uno psichiatra per capire che tuo padre è la causa del tuo problema col gioco d'azzardo, amore mio. Davvero hai questo problema? Col gioco d'azzardo non ho nessun problema. Su, ammettilo. Hai un debito di 15.000 dollari con un bookmaker chiamato lo scimmione che ti ucciderà se non pagherai. Questo non è un problema, secondo lei? Tu devi 15.000 dollari a un bookmaker? Chiamato lo scimmione. Che lo uccide se non paga, quella parte lo capita. Vince, è vero? No, non è vero. Io non gli devo 15.000 dollari. Come? Io gliene devo 20.000. Ah, questa non te l'aspettavi, eh? Eh, no, direi di no. Quindi gli dovevi altri 5.000 dollari. No, no, non è così. Ricordi che lo scimmione allo zoo ci ha parlato della clausola della dolcezza? È tipo il costo del servizio. Lo scimmione applica la clausola quando dimostra la sua dolcezza verso qualcuno. Jennifer, perché non dici a Vince come ti senti? Ecco, mi sento... Sì, non vedo l'ora che sia tutto finito, così non dovrò più vederti. Non ti scriverò un biglietto d'auguri per Natale? Non so nemmeno se sai scrivere. Divertente, vogliamo andare? Sì, andiamo. Aspettate, non ho capito. Concelliamo il matrimonio? No, perché? Oh, bene, siete in casa. Mamma, quelle chiavi sono solo per le emergenze. Questa è un'emergenza. E il vostro matrimonio non si fa. Che cosa? Oggi tuo padre ha giocato a golf con il reverendo Jim. Mi ha detto del tuo problema con il gioco d'azzardo. Io non ho nessun problema con il gioco d'azzardo. Mi dispiace, figliolo. Non le permetterò di sposare uno con quel vizio. Doveva essere un segreto fra noi. Oh, il reverendo Jim è un pettegolo tremendo. Grazie a Dio non siamo cattolici. Non ha mai saputo gestire le confessioni. Comprendiamo la tua situazione. Pensiamo che tu sia un bravo ragazzo, ma dobbiamo proteggere Jennifer. Ha sempre scelto gli uomini sbagliati, non ci sa proprio fare. Che dici, papà? Ricordi Bobby Sherwood e l'incidente della gomma nei capelli? Quello è successo alle medie. L'ho detto così, era un esempio. Mi dispiace, non possiamo consentire il matrimonio. Capisco. Mamma, papà, mi vergogno di voi. Il matrimonio non è fatto solo di bei momenti. Lo hai lasciato, papà, quando ha avuto quel fungo terribile al piede? No. E tu? L'hai lasciata, mamma, quando si è fatta la permanente da sola ed è rimasta calva per un anno? No. E io non lascerò Vince nel momento del bisogno. Grazie. Poi quelli del catering non ridanno l'anticipo. Veramente? Neppure un centesimo. Possono farlo davvero? Sì. E c'è un'altra cosa. Vince ha accettato di andare al centro giocatori anonimi. Eh sì. Dove? Lo sconfiggerai, figliolo. Sono così fiera di te. Salve, mi chiamo Vince e sono un giocatore d'azzardo. Ciao, Vince. Tocca ancora a me. Beh, che cosa posso dire? Devi sapere quando tenerle. E quando è il momento di lasciarle. Grazie. Grazie di aver partecipato. È stato bello, molto. Pazzesco, eh? Sì. Da quant'è che lo conosci? Da un mese. E non sei incinta? Ma dai, su. Questa te lì è il migliore, c'è di tutto. Possiamo trovare qualcosa tipo stile impero. Non sono incinta, la pianti o no? Quando me lo presenti questo, Vince? Aspetta, perché non ho ancora conosciuto Vince? I tuoi familiari lo conoscono? Tutti accetto Bonnie. Cardney, che ne pensi di questo? Scusa, dicevi? Che ne pensi? Questo è il mio preferito. Ciao, mi chiamo Ben e sono gioco dipendente. Ciao, Ben. Ciao, Ben. Ciao, Ben. Come va? La mia ossessione erano i cavalli. Passavo più tempo alle corse che con la mia famiglia. Ah, ti capisco. Nel mio momento peggiore avevo un debito di 300.000 dollari. Grazie a questi incontri sono riuscito a controllare la mia dipendenza. Non scommetto più da cinque anni. Continua così. E infatti ho solo quotato in borsa la mia società. Chi avrebbe mai pensato che sarai diventato multimilionario? Ho finito. Grazie, Luigi. Ben è la dimostrazione di quello che possiamo fare seguendo il programma. Lo sentivo che sareste andati d'accordo. Davvero? Perché? Perché ti conosco e so quanto sia importante per te la lealtà. Steve mi ha detto che di tutti i suoi amici Vince è l'unico sul quale abbia sempre potuto contare. Sette giorni su sette. Come si comporta con sua madre? Perché con te si comporterà nello stesso modo. Beh, con lei è dolcissimo. E hai detto che va d'accordo con i tuoi genitori? Stranamente sì. Allora ti ama davvero? Genitori a parte. Com'è nel balletto orizzontale? Ci sa fare? Ragazzi! Sei proprio uno sfacciato, David. Lo sai? Parlaci del suo corpo com'è. È perfetto. Non avevo mai visto addominali così. Oh, ma guardati. Sei paunazza. No, non è vero. Sì che è vero. Ti assicuro che non eri mai arrossita così prima d'ora. Sei bellissima. Ben, scusa. Sì? Vince, ciao. Tu hai... Ho parlato prima. Sì, me lo ricordo. Perfetto. Senti, la tua storia ha salvato la mia vita. E volevo chiederti se puoi venire... Se posso farti da mentore? Assolutamente sì. Se puoi venire al mio matrimonio. Ci conosciamo, Pen. Lo so. Lo so, ma... Hai una tale ricchezza interiore... Oh. ...che è un'ispirazione per me. Ben. Scrivimi nome e indirizzo. Mi piacerebbe mandarti l'invito. Certo. Carta? Penna? Ecco. Molto grazie. Prego. È grandioso. Ti ringrazio. Grazie. Grazie a te. Ci vediamo presto. Ok, contaci. Scusa, ma non ho potuto fare a meno di sentire. Non stai per sposarti sul serio, vero? Perché me lo chiedi? È solo che non sembri il tipo da ragazza fissa, ecco. Non sei la prima a dirlo. Ma evidentemente sono il tipo, perché sì, sto per sposarmi. Peccato. Ma non prima di qualche settimana. Niente gioco d'azzardo, per questo siamo qui. Sì, l'ho capito anch'io. Però credo sia normale avere delle tentazioni. Che volevi fare? Bere una cosa con te. Magari solo una. Mi sta male? Ci sta una meraviglia. Quando serveva a me non c'era. È emotiva, irascibile. Credimi, non è un rapporto facile. Beh, i rapporti non sono mai facili. Però c'è qualcosa di buono in lei. È piena di iniziativa. Ha la capacità di sorprenderti. Belle qualità. Sì. È la mia fermata. Scendo qui. Peccato non sia anche la mia. Questo dipende da te. Signor giocatore d'azzardo, signor tipo da ragazza fissa, a quali tentazioni sapresti resistere? Signor giocatore d'azzardo. Ciao. Ciao, promessa sposa. Che stai facendo? Ho preparato una lasagna tutta per noi, così festeggiamo. Festeggiamo? Sì. Abbiamo ricevuto i nostri primi regali. Ora tu possiedi un utilissimo portadolcetti e io un assegnò da 100 dollari. Fantastico. Oh, scusa per ieri sera. Per ieri sera? Avrei dovuto avvisarti che dormivo fuori. Ah, hai dormito fuori. Non me ne ero accorta. Oh, allora, beh, meglio. Ti ricordo che siamo solo dei fidanzati finti, non siamo innamorati sul serio. Certo. Sai, dovremmo fare la lettura delle promesse. Non ripetiamo quelle che dice il reverendo? Oh, quelle sono così fredde, impersonali. Eh sì, le promesse finte di un matrimonio finto devono venire dal cuore. Senti, ci saranno la mia famiglia e tutti i miei amici. Anche se sono promesse finte, vorrei che per loro fossero emozionanti. Non posso leggere una poesia? Ok, dai, non importa. Scriverò io le tue promesse, d'accordo? Non preoccuparti. Per quanto riguarda le tue? Che vuoi dire? Scriverai le promesse che vuoi che io legga. Tu quali leggerai, invece? Ah, pensavo di leggere una poesia. Come? Non credo proprio. Scriverò io le tue promesse. Bene. Posso avere un foglio? Hai una penna in più? Quella che cos'è? Una penna. Che cosa è scritto finora? Jennifer, non credevo esistessero donne amorevoli come te. E ridi? Sembrerò un fallito. Tu sei un fallito. Non so se saprei leggere con la faccia seria. Io non so se sai leggere, figurati. Sai che c'è? Mangia tu, io ho perso l'appetito. L'avrei lasciato dove sei stato ieri sera. Ah, dovrei chiedere il permesso di uscire alla mia fidanzata finta? No, perché sarebbe rispettoso e tu il rispetto non lo conosci. Per cui informazione, ho accompagnato una persona a casa sua ieri e poi sono andato a dormire da mia madre. Perché? Non ne ho idea. Pronto? Oh mio Dio, va bene, arrivo subito. Che è successo? Mia sorella è in ospedale, è stata investita da un camion. Sia Jen! Ragazzi! Ciao! Dove sono i vostri nonni? Dentro con mamma e papà. Non ci fanno vedere mammina? Non vogliono che Samantha si spaventi, io sto con lei. Ho capito, ve la sentite di stare qui per un po'? Sì, ci penso io. D'accordo, torno subito, va bene? Ciao! Chi è quello? Un tipo strano. Bonnie, mi dispiace. Mi dispiace così tanto. Senti, so che il mio figlio è un gran che, ma... Che posso dire? Ecco, che posso dire. Sei la mia sorella minore, quindi non mi aspettavo che ti sposassi per prima. Ma lo hai fatto e io ho dovuto accettarlo. E quando sono arrivati Jonathan e Samantha siete diventati praticamente la famiglia perfetta. E mamma e papà passavano il loro tempo solo con voi e io... Io mi sentivo un'estranea. Sì, lo ammetto, io ero gelosa. Sono ancora gelosa. Però se tu non morirai, Bonnie, ti prometto che mi butterò il passato alle spalle. Infatti... Penso che saresti una perfetta damigiana d'onore. Lo sarò, Jen Jen. Guarisca presto. Mamma ha detto che sei stata investita da un camion. Mamma! No, non sono queste le esatte parole che ho usato. Ero in soffitta per prendere alcune cose dei ragazzi da dare in beneficenza e scendendo sono inciampata in un camion giocattolo per le scale. Grazie a Dio, stai bene. Mi sa che hai sentito tutto, eh? Sì. Ti voglio bene. Te ne voglio anch'io. Vieni qui. Abbracciami. Spero per voi che gli adulti non vi abbiano abituati a vincere sempre. Perché stavolta non andrà così. Pronti? Lo scontro sta per accendersi. Come una lampadina. Cominciamo. Attenso! Mi ho preso! Hai mangiato la palla! La palla impazzisce per lui! Prova a prendere la palla, provaci! Dai, dai, dai! Gol! Allora il ragazzo e agguanta la ragazza! La tira su e la fa girare! Il campione prende la maglia e la sbandiera per tutto lo stadio! Come avete fatto? Come siete riusciti a buttarla giù? Siete più forti voi, gocciosi! Ora è arrabbiato! È arrabbiato! Si sta trasformando in un mostro! Ora basta! L'orario di visita è terminato. Vostro padre rimarrà qui stasera. Quindi voi, bambini, verrete a casa nostra. A meno che non vogliate venire a casa nostra. Sì! Era quello che pensavo! Ah! Ma mi schiava a pezzi! Ok! Bel lavoro! Ottima partita! Immagino che stasera dormirò di qua. Come stai a resistenza? Nessuna si è mai lamentata. E la capacità polmonare? È fantastica! Allora non avrai problemi a gonfiarti il letto. Buonanotte! Come va, capo? Che avete per me? Il pizzaiolo ha sborsato. Prego. Prego. Niente male. Oh! E questo che cos'è? Aveva solo la metà dei soldi. E gli abbiamo preso mezzo dito. Altre novità? Siamo andati da Vince, come ci avevi chiesto. Eh? Hanno scelto le hortensie per il centrotavola. E per il bouquet il glicine. E a mazzetto o a cascato? Non glielo ho chiesto. Dannazione. Andate subito a scoprirlo. Ti perdi sempre nei dettagli, ciocone. Ti perdi sempre nei dettagli, ciocone. Colpito. Colpito. Devi colpire quello. Per essere così piccolo, che la cavi bene. Sì, lo so. Ora basta giocare, è ora di dormire. Dai, ti prego, un'altra partita, zia Gen. Da solo perdo di sicuro. Ho detto sì, è un'altra partita un'ora fa. Va a letto, voglio dire, sulla poltrona. Dai, su. Ubidiamo. Dormi. A domani. Buonanotte, ho detto. Non mi rimbocchi le coperte? Vuoi... sì. Sì, certo. Perché no? Però ti avviso, è la prima volta che rimbocco le coperte, chiaro? Ecco qua. Notte, notte. Zio Vince. Sì? Quando torniamo a casa? Oh, non hai saputo? Ha chiamato tua madre e ha detto che voi ragazzi dovrete stare con noi per sempre. No, io voglio andare a casa mia! Calma, ti abbassa la voce! Che succede qui? Ecco, credo che sia un po' arrabbiato. Jonathan, che cosa c'è che non va? Ha detto che mamma ci lascia qui per sempre. Scherzavo. Voleva solo essere divertente. Però non è divertente. Lo dici a me. Qual è la tua favola della buonanotte preferita? Peter Pan. E qual è? Io non la conosco, ti va di raccontarmela? Ok, c'è un bambino che si chiama Peter Pan. Oh, già mi piace. E poi c'è una ragazza, Wendy. E c'è una fata, Campanellino. E c'è un pirata che ha un uncino al posto della mano. Oh, davvero? E poi che succede? Peter Pan porta Wendy e i suoi fratelli all'isola che non c'è. E hanno un'avventura. Bello! E ci sono anche i bimbi sperduti? Sì, anche loro. Che forza! È da molto che dormi sul materassino, mi dispiace. Tranquilla, è comodo. Non ti sei mai lamentato. Ti comporti quasi da adulto. Che battuta acida, non me l'aspettavo da te. Buonanotte, Vince. Buonanotte, Jennifer. Si è bucato il materassino. È solo un buchetto, non importa. Puoi dormire qui, se vuoi. Non sarebbe strano? No, se resti sopra le coperte. Buonanotte. Buonanotte. Aspetta. Che stiamo facendo? Oh, dai, non l'hai mai fatto. Stai, stai. Ok. Chi è? Non mi sento tanto bene. Che cos'hai, dolcezza? Ho mal di stomaco. Ti senti meglio ora? Vieni, zio Vince ti pulisce, va bene? Vorrei che lo facesse zia Jen. Sul serio? Oh, vieni, zia Jen si prenderà cura di te. Perché non metto mai le pantofole? Zia Vince, zia Vince. Sì, ometto. Dov'è Samantha? Dormai con tua zia Jennifer. Non si è sentita bene. È stata una serata piena di emozioni, ometto. Che è successo? Un giorno te la racconterò, va bene? Magari quando sarai al college. Non andrò al college e neanche Samantha. Perché? Nonna ha detto che il fondo per il college serve per pagare il matrimonio. Ha detto così? Buonanotte. Abbiamo vinto! Papà! Ciao! Vince! Come hai fatto a sapere dove trovarmi? Anche mamma veniva qui per trovarti e di solito c'ero anch'io. E ti ricordi di questo? Non ho altro da ricordare. Anch'io sono contento di vederti. Posso offrirti una birra? No, sono qui solo per parlare di affari. Ma dai, resta un po' con me. Ci facciamo una pizza, un paio di scommesse. Non gioco più. È un vizio pessimo. Non rispetterò la tradizione di famiglia. Allora sei qui solo per i soldi? Perché sono venuto? È stato un errore. No, 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 Vince. Ascolta, lo so che la tua vita è stata dura e ti chiedo scusa per questo. Come so che non sarò mai il padre dell'anno. Mi sarebbe bastato un padre. Ho fatto una maxi vincita l'anno scorso. Quella che ho sempre sognato, che aspettavo da una vita. Ma quando è finita l'euforia ho capito che... che non ho nessuno con cui festeggiare. È normale vivendo in un posto così, papà. Io vorrei... Io sto cercando di rimediare, figliolo. Vorrei avere una seconda chance. So che non la merito, ma... No. D'accordo. Va bene. Sono fiero di te, Vince. Innamorarsi. Sposarsi. Creare una famiglia. Accidenti se ti invidio. Mi sono giocato l'amore della mia vita. È il mio bel rapporto con te. È questo il mio maggior rimpianto. Troverò i soldi in un'altra parte. No, Vince. Per favore, ti prego. Fammi fare almeno questo. Ok? Ciao. Sabato prossimo alle due, nella chiesa Pitchtree Christian. Salutate vostra zia Gen-Gen e non dimenticate di ringraziarla. Ma dov'è, zio Vince? Ehi! Dove credevi che fossi? Ometto. Ciao! Ah, cavolo! Te ne andavi senza salutarmi. Perché ti ho stracciato a quel gioco. Sì, magari. Da parte di mio padre. Come stai? Starò bene. Mi dispiace per te, ma a quanto pare ci andrai al college. Forza, salite. Sì, Vince, mi mancherà. Tranquillo, non vado a nessuna parte. Sono andati via da un paio d'ore e già mi mancano. Lo so. Altro che buchetto. Senti, a proposito di ieri sera. Non è successo niente ieri sera. Forse è stato meglio. Sì. E che le cose potrebbero complicarsi. Io non le capirei. Non ne approfitti, niente battute acide? Buonanotte, Vince. Beh, non metterò di nuovo a rischio il materassino. Quindi forse è meglio che io vada... Buonanotte. Ci vediamo domani alla cena di prova. Ha un camion giocattolo. Meno male che non era un treno. I miei amati genitori e io siamo felici di avervi tutti qui per festeggiare il matrimonio di domani di Jennifer e Vince. Probabilmente molti di noi pensavano che Jennifer non si sarebbe mai sposata. Ma lei ha trovato un uomo meraviglioso, così divertente, altruista, gentile. E ovviamente la adora. Ho visto il modo in cui Vince guarda Jennifer quando lei non lo guarda. E vedo quello che lui vede in lei. Aspetto con ansia domani. Per ammirare la mia bellissima sorella. Per vederla felice come me quel giorno. Ma quello che aspetto di più, la cosa più importante, è entrare a far parte della vita che Jennifer e Vince condurranno insieme. A Vince e Jennifer, che possiate vivere felicemente insieme per sé. Jen Jen! È un po' nervosa. Ehi. No, non è giusto. Io non voglio deludere la mia famiglia e i miei amici. Mi dispiace, io non ci riesco. Dobbiamo farlo. No, io mando tutto a monte. No, questo no. Tieni. Come fai a continuare questa farsa? Tu non puoi abbandonarmi. Avrei potuto usare i soldi di mio padre per pagare il debito, ma non l'ho fatto. Perché no? Non lo so perché no. Perché sì. Senti, non posso andare all'altare domani e sposare un uomo che non mi ama. Adesso me lo dici. Ah, un tempismo perfetto. Scusa, troverai un altro modo per saldare il debito. Se ci fosse stato un altro modo, credi che avrei sopportato tutto questo? Oh, mi dispiace se è stato orribile. Allora, torna dentro, Jennifer. Coraggio. Di ai tuoi genitori che i soldi che hanno speso erano per una farsa. Questo riesci a farlo? È come pensavo. Domani, noi due ci sposeremo. Sempre che tu non mi voglia morto per avere la mia TV. Dopo il matrimonio non voglio più vederti. Grazie a Dio non ho fatto l'amore con te. Ti sarebbe piaciuto. Non tanto quanto a te, sai. Come si annoda questa cosa, Steve? Perché non l'hai comprata con la clip? Questo è il mio matrimonio, amico. Sei vestito? Sì. Wow, sei davvero uno schianto. Grazie. Lei sta bene? Vuole ancora andare fino in fondo, vero? Sì, è ovvio, sì. Certo, è un po' tesa, ma è soltanto l'emozione. Bene. Mi ha chiesto di darti questo. E ha detto che tu dovresti averne uno per lei. E se non lo hai scritto, vuole che io aspetti qui finché non me lo darei. Messaggio in codice. Aspetta. Sì. Che cosa dolce, scambiarsi i biglietti d'amore poco prima della cerimonia. Eccolo. Ehi, fratello! Ehi. Vado. Siamo quasi pronti per cominciare, quindi dovresti annodarti la calatta. Ok. Pensa che siano dei lacci da scarpe per il collo, eh? Salve. Salve. Sono un amico di Vic, più o meno da una settimana. Vince. Giusto. Vince. 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 Calmati, tranquilla Siamo belli Chiudete, chiudete Tesoro, è ora? Non credo di riuscirci Sì che ci riesci No, vedi, Vince, io... Jennifer, ascoltami Tua madre e io pensavamo che non ti saresti mai sposata Sì, lo so, papà, grazie Perché pensavamo che non avresti mai incontrato un uomo che meritasse di avere tutto quello che tu hai da offrire Non potrei essere più orgoglioso della donna che sei diventata E mi dispiace tanto di non avertelo mai detto Scusa Papà, io devo dirti una cosa Tesoro Lo so che hai paura È difficile per me darti in sposa, ma... Sono sicuro di affidarti in buone mani Vince ti ama Andiamo Lo so Oh Oh Mio cari amici Altri sentono di essere troppo vecchi per restare single Altri ancora, invece, lo fanno solo per avere tutti i regali È ridicolo Quello che non riescono a capire è che il matrimonio è un viaggio Un meraviglioso, è un viaggio Un meraviglioso, emozionante e a volte purtroppo spaventoso viaggio Ho ragione Sei testarda e... polemica e... polemica e... polemica e a volte sei molto... 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 molto prepotente È per questo che mi sono innamorato di te Non lo avevo previsto, ma è successo E più andavamo avanti Più notavo la tua generosità La tua gentilezza Il tuo grande senso dell'umorismo E il rispetto che hai verso gli altri Sei una persona meravigliosa E sarei molto fiero di averti come moglie Jennifer, tocca a te ora Le tue promesse Vuoi sposarmi sul serio? Era di mia nonna Non è il momento dello scambio degli anelli Che mi rispondi? Sai, io mi vanto di saper capire come sono fatte le persone E... quando ti ho conosciuto Vince Ti ho visto come un pigro, disordinato e un Don Giovanni E avevo ragione Era tutto quello che riuscivo a vedere Ma ogni giorno passato insieme ho visto delle piccole cose che amo di te Il... il modo in cui ti illumini quando vedi tua madre O il modo che hai di far ridere i miei nipoti E da allora, io non so Te l'ho detto, io amo tutte queste piccole cose di te Ti amo, Vince Questo è un sì? Sì Ok Sì Sì Ragazzi, non è il momento nemmeno del bacio Vince, vuoi prendere Jennifer come tua legittima sposa? Jennifer, vuoi prendere Vince come tuo legittimo sposo? Vi dichiaro marito e moglie Adesso potete baciarvi Ce l'abbiamo fatta! Fierivonia commovente Grazie Signor Simeone, la pagheremo presto Se vuole un anticipo, prenda un regalo, sono tutti su quel tavolo Mi piace il tuo stile Vince, ottimo scelto Lo so È per questo che ti ha buono il debito Veramente? Ma no, scherzavo Fatti scalo 75 dollari così vi ci comprate un brullatore Alla nostra coppia felice Tutti in gol Alla nostra coppia felice Ehi, siamo sposati Siamo sposati sul seno Lo so Siamo così fortunati Però mi sento ancora in colpa per aver ingannato tutti Credi che dovremmo dirlo? Adesso? Scherzi? Tua zia ci ha comprato la caffettiera che volevi Sì, però era tutto finto Ma è diventato tutto vero Io ti amo Possiamo anche restituire i regali se vuoi Questo non cambierà Siamo tanto, Vince Ciao